Una vera e propria banda di cybercriminali attiva tra le province di Fermo, Napoli e Roma è stata sgominata dai carabinieri in seguito alle indagini partite dopo diverse denunce di truffa online. A finire in manette, un uomo originario del comune napoletano di Torre annunziata ma residente nelle Marche, ritenuto dai militari il principale promotore dell'associazione a delinquere. Ai domiciliari invece altre tre persone, presunte suoi complici. Fenomeni bradisismici dei campi flegrei e mitigazione del rischio vulcanico. È il seminario organizzato dal Circolo Savoia, da Rotary International Club Napoli Est e CNR Iris, a cui hanno preso parte esperti del settore, tra cui Antonio Coviello, ricercatore economista del CNR Iris e docente universitario. Da economista e con appunto altri colleghi del nostro istituto abbiamo calcolato il costo di un'eventuale evacuazione repentina che coinvolgerebbe 600.000 persone in zona rossa e più eventualmente 700.000 della zona gialla, 1.300.000 persone. Ed è circa 30 miliardi di euro. Rafforzare la vocazione al contemporaneo della città con iniziative pensate appositamente dai protagonisti dell'arte del nostro tempo e creare una relazione diretta con la cittadinanza invitando artisti di alto profilo a intervenire in piazze, strade, chiostri, quartieri, contribuendo così ad alimentare un processo di riqualificazione urbana. In questo percorso si inserisce lacrime di coccodrillo all'installazione di Francesco Vezzoli che da oggi è visibile in via permanente nelle prigioni del maschio angioino. L'Italia ha le prese con il caro vita. Nonostante gli aiuti del governo per le famiglie più vulnerabili, le bollette di luce e gas continuano a pesare sulle tasche dei cittadini. Su quelle dei napoletani poi e di chi vive nelle aree più fragili del paese ancora di più. Presentata a Napoli la casa delle tecnologie emergenti infiniti mondi. Progetto dedicato alla ricerca e alla sperimentazione delle tecnologie innovative in ambito creativo e culturale che coinvolgerà università, centri di alta formazione, centri di ricerca e di imprese innovative. Base logistica l'albergo dei poveri a piazza Carlo III. Tornano sabato 14 e domenica 15 ottobre le giornate del FAI, Fondo Ambiente Italiano. Il grande evento dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico d'Italia vedrà a Napoli aperture speciali grazie alla collaborazione avviata dal FAI con l'Università Federico II. Aperta nel 1949-74 anni fa in Vico Lungo Teatro Nuova ai quartieri spagnoli di Napoli è difficile non aver sentito nominare la storica trattoria Nennilla. Da molti napoletani viene considerata una vera e propria istituzione dell'ambito culinario. Ora però ci sarà da mettere in pratica il trasloco dello storico locale che si sposta in piazza Carità. La notizia è stata data attraverso un annuncio della stessa gestione durante un incontro con lo youtuber Andrea Rossi di Alici come prima. Camminando a Napoli nella centrale piazza Dante questo weekend turisti e residenti potranno trovarsi davanti a uno spettacolo fuori dall'ordinario. Dalle 10 alle 18 infatti un coloratissimo set è pronto ad accogliere curiosi e curiosi nel mondo dell'armocromia, l'analisi del colore personale e delle tonalità della pelle. L'iniziativa promossa da Coccolino vede in prima fila la specialista Anna Ia Di Cicco che coordinando il suo team di consulenti è a disposizione degli avventori per guidarle alla scoperta della propria palette cromatica. Il prossimo 4 gennaio saranno nove anni che Napoli ha detto addio a Pino Daniele uno dei suoi principali e più noti artisti, musicisti e più in generale interpreti perché nei suoi testi, nelle sue canzoni il nero a metà ha davvero interpretato Napoli a tutto tondo distillando in musica quello che è il senso dell'essere partenopee e partenopei i successi, i drammi, le grandi collaborazioni con i big della musica mondiale quello che Pino Daniele è stato e ha rappresentato è noto un po' a tutti ma non si può dire lo stesso del suo essersi fatto interprete della napoletanità. Dopo la parentesi Champions il Napoli riprende il suo cammino in campionato domenica sera allo Stadio Maradona contro la Fiorentina prima della sosta nazionale. In conferenza stampa pre-match ha parlato il tecnico Rudy Garcia che alla domanda è la partita più importante della sua stagione? Ha risposto la gara più importante è sempre quella che arriva ma sono d'accordo, siamo a pari punti, vogliamo blindare il terzo posto. Grazie a tutti.